Ragazzi qui è 76 Scusate ragazzi mi era venuta una voce strana Ah no era sto pirva del mio amico youtube Siamo tutti da youtube 05 Qui siamo in un nuovo gioco, una nuova serie penso della mia amica 76 Grazie 76, su che gioco sia? Siamo su, sapete Battle Royale ovvero Fortnite E praticamente Smetti a youtube Praticamente questo è un Minecraft di Battle Royale Quindi visto che mi chiedevate porta Fortnite e porta Minecraft Io li ho fatto tutte e due in un solo gioco Direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo Ovviamente scegliamo Battle Royale Ovviamente si, ciao ciao E' un nuovo gioco, non l'abbiamo ancora provato Ma Che diavolo è successo? E' arrivato un po' Una martellata sui colloni Ok ora siamo qua Mancano 35 secondi Ci sono 22 persone Abbastanza, abbastanza Ovviamente meno di Free Fire Io so che l'ho già portato Ce l'ho pure io Sì Scrivetemi con me se volete un video con Youtube Su Free Fire Che a me piacerebbe portarlo Ancora 14 secondi Però avete visto che Quando il pullman mi è passato a prendere Un tizio è uscito fuori E mi ha dato una martellata sui foglioni Ma che c'è un tizio? Perché c'è un tizio in dentro? Tonno in scatola ragazzi Tonno in scatola Ecco che cos'è Per questo episodio Una partita Come Free Fire Il primo video Ma per i prossimi episodi Due partite Intanto si parte Ui ma è molto Ma è proprio come Fortnite Fortnite Si stanno già tutti buttando Dimmi tu quando Dici te Quando buttarci Youtube Io direi Ora Ci siamo buttati Peccato che Presto 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 Iniziamo Trovare armi Presto Saltiamo Aspetta un attimo Una casa Vediamo un po' come si trovano le armi Si perché questo gioco è nuovo E non so come si usa Scusate l'ignoranza Ma non so come si usa Ecco qui c'è un'arma Direi di Ecco possiamo andare Provo un po' A sparare Penso che si faccia No questo è il cecchino E a sparare come si farà Boh Non vedo nessuno Al momento Al momento intanto C'è un'altra arma Ma che cos'è E scusate se mi arrivano messaggi Ora Perché mi interrompete Mentre faccio il video E questo Serve a ricaricare Credo Scusate l'ignoranza Ma abbiamo soltanto un dubbio Cioè com'è che si spara Un carro armato Così si spara Ignorante Non si spara così Ignorante Come si spara raga No 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 Questo è malo malo Dobbiamo imparare come si spara Sennò qui Siamo spacciati Potrebbe essere simile a Gunsoft Boom Scaricatelo tutti Perché è un bellissimo gioco In cui non si spara Ma si punta soltanto No da me è brutto Così Ma certo che si Certo che si può sparare Vero? C'è una mini mappa Che figata Mi stanno già sparando Vai via Ma che cavolo È nascito vero? Ok ragazzi Dobbiamo imparare come si spara Visto che questa partita È durata molto Ma molto poco Poi c'è un altro Non sono tante Non mi piace Stasore Cosa mi state dicendo? Scusate per la pubblicità Solitanto che Pubblicità molesta Si poteva schippare Esatto Spero che non si vengono Non si vengono Non si vengono Se no andate Non si vengono a vedere Perché è una bomba E ricordatevi Mettete tutti i like A questo video E iscrivetevi Non siete iscritti? Non siete iscritti? Non fatemi arrabbiare Non fate arrabbiare YouTube E comunque non è una minaccia Scusate Non ci sono dei tutorial Allora Intanto io direi Di provare No Per il prossimo episodio Scriveteli nei commenti Se volete Che proviamo Le altre modalità Però Per questo Aspetto Iniziale Adesso arriva il tizio Che mi dà la martellata Tutti i miei E' visto No Dovemmo fare Aspettiamo che Tre Ok Allora Ci siamo di nuovo Come cacchio si fa a sparare? Allora Intanto io direi Di vedere il tutorial Non ci sono tutorial Ok? No tutorial Direi di mettere la sensibilità al massimo Sì ok Fai Autoshotting Per cui appena punti una persona Spari Basta puntarla dentro Quello Se non volessi Non faremmo Clasic Shotting Si Clasic Shotting Shotting Spiegate Questa Inglese Grazie Scrivete nei commenti se l'inglese è formidabile, vero? Eh, adesso è venuto il... Perché abbiamo messo il tushotting. È vero, altrimenti... Aspetta. Wow, 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 aspetta, cosa mi stai dicendo? Eh? Vediamo, aspetta, fai vedere un po' la mappa. Mappa. Allora, la mappa è abbastanza... E attenza che già ci sparano. Tutte le volte che becchi la mappa, ci sparano. Porca pizzola. Scusate, ma per il prossimo episodio ci faremo trovare un po' più... Preparati! Cosa c'è qua? Un'arma? Un lancio granate! Io direi di prenderlo. Sì. Prendi... Prendi... No, vabbè, intanto colorare... Però gira di non sprecarlo e tenercelo. Un piccone! Il pickaxe! Forse si potrà... Attento che... Scusate la parolaccia, metterò un BIP quando dirò le parolacce. Che avviserò YouTube di fare il BIP quando dirò parolacce. Mi dovrei subire... Mi dovrei subire... Ti do... Ti do... Così subito, intanto ti stanno sparando... E siamo morti! Yey! Ne facciamo un altro, ovviamente. Scusate, ma... Ma porca... Ma porca... BIP! Però che due... Che due... Che due BIP! Scusate, ma un po' ringrazio. Sì, ma... Che... Non si può fare... Che ca... Eh, io direi di salutare... No! Ci vediamo al prossimo video. Mettete tutti i like. No, te lo scordi! Dobbiamo fare una partita bella! Bela! Capito bella? A raggiungimento di 12... 5 start. Wow, 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 wow! Cosa stai facendo? Di provare la team box. No, quella cosa mi ha preso audio! YouTube non sai niente! Sì, però porca... Mh... Ok. Vi sembra un gioco stupido, ma in realtà è molto più bello, perché io l'avevo già provato, ma solo che non ci riesco molto a giocare bene, perché è difficile. Saliamo su qua. Perché c'è gente morta? Mh... 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 YouTube, che stai facendo? Mh... ci gratta la testa ci sono tombe di vampiri starting 8 7 6 5 stavo scherzando dovete mettere tutti la è una minaccia vista minacciando ragazzi iscrivete a tutti nei commenti hashtag no minaccia mi sa che troppo saluta mutiamoci in 3 2 1 via scusa iscrivetevi il canale ma non si può correre in sol cacchio di gioco senza offesa chi ha fatto sto gioco però una miglioranza io metterò 4 steline ma ne mette a 5 quando voi aggiungerete che si può correre questa un'arma si un'ascia di che cacchio me ne faccio un'ascia lasciala lasciala ai colpi infiniti almeno mettete like al video per testa di cazzo scusate ragazzi sono i vicini molestanti vicini molestanti vicini molestanti sorry per i vi mettete mettete like per i vicini molestanti c'è non trovo una motosega è un no bellissimo questa guarda questa guarda questa una minigun ecco e mi sparo è dietro di te no è davanti a te è davanti a te sorry raga secondo me dovresti prendere mettere l'autoplay sentite raga per il prossimo episodio faremo partita in cui non morirò però direi che questo episodio lo concludiamo qui mettetela in calcio e scrivetevi un saluto da youtube 05 mettete hashtag vicini molestanti e hashtag testa di bitto e quindi credo di concludere qua il video ecco 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 ecco